Ci sono opere che colpiscono anche soltanto per la combinazione irripetibile dei colori utilizzati. I pannelli cuspidati dei dipinti di Lorenzo Monaco tolgono il fiato per la brillantezza dei soggetti, valorizzati da tonalità chiare e cangianti, immerse in un fondale dorato. L'armonia delle forme e dei colori messe in scena vede a fianco dell'angelo e di Maria la presenza di quattro santi, due per lato, Santa Caterina d'Alessandria, Santa Antonia Abate, San Procolo e San Francesco d'Assisi. Maria, seduta sul trono rialzato su un gradino, è ritratta in una posizione ritrosa. Il corpo è completamente nascosto dal mantello azzurro, a parte le mani e la punta della scarpa sinistra. L'angelo invece sta planando con le braccia incrociate, la fiammella divina sul capo e i piedi tra le nuvole. Sono loro i protagonisti assoluti di un capolavoro che abbaglia ancora oggi per la sua bellezza e per la sua intensità.